e amici di sportive la visione immagini che vi giungono dallo stadio appartegno Lombardi di Avellino finale primo e secondo posto del trofeo giovanile terre di Irpini riservato alle categorie under 15 si sfidano sul rettangolo di gioco dell'impianto di via Contrada Zoccolari l'Avellino e la Lazio passiamo subito alla lettura delle distinte partiamo dall'Avellino che schiera Gammone tra i pali numero 1 numero 2 Daniele Tre Luminoso 4 Visconti 5 Giordano 6 Parisi 7 Capas 8 Rossi 9 Rinaldi 10 L'Angelo 11 Esposito in panchina Gianpietro Capuozzo Foggia Bonagura Ruotolo Palladino e Chiocchi allenatore Giuseppe bevi l'acqua la Lazio risponde con di Fusco tra i pali numero 1 numero 2 Franco 3 Ferliccia 4 Manzo 5 Pollini 6 De Santis 7 Migliorati 8 Felici 9 Castiglioni 10 Mari 11 Marinacci in panchina benvenuti chi metta la Monti Vitale Ancillai e Campagna allena Tommaso Rocchi dirige il match il signor Alessandro Marino appartenente alla sezione di Avellino coadiuato dai signori Pasquale Aquino di Avellino e Alessandro Silvestri anche egli di Avellino tutto pronto per l'inizio del match di questa gara che chiude la tre giorni allo stadio Partegno Lombardi dedicata al calcio giovanile successo enorme per la seconda edizione del torneo nazionale Terre d'Irpinia autorizzato tra l'altro dalla Lega A e B il torneo è stato promosso dalla Viz Montorese e dal presidente dell'Oest Avellino Walter Taccone un torneo che ha assunto rilevanza nazionale dedicato appunto ai settori giovanili dei club di A, B e C partiti proprio in questo momento e l'Avellino a dare il via e l'ossidità alla formazione bianco-verde attaccherà nel corso di questi primi attenzioni 35 minuti dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi e sì perché per le finali è cambiata la durata dei tempi seguiamo l'azione del Lazio con Marinacci che prova di involarsi ma è numero 11 Felici allarga sulla destra per il numero 3 Ferliccia inseguito da Daniele la palla rimane in campo può ripartire il numero 7 Vellinese Capasso D'Angelo si distende la formazione campana la sera previene sulla sinistra Simone Esposito attore del gol ieri contro la formazione della Juve Stabia che ha regalato la finale all'Avellino contro Lazio dall'ex attaccante di Lazio Empoli Inter tra le altre e anche della nazionale italiana tant'è vero che Tommaso Rocchi ha appunto collezionato qualche presenza anche in azzurro all'epoca in cui era commissario tecnico Roberto Donadoni stavamo dicendo di questi tre giorni che si sta concludendo con la partita di finale le finali quinto e sesto posto terzo e quarto posto primo e secondo posto prevedono una durata a tempo di 35 minuti a differenza delle gare precedenti delle gare a gironi in cui la durata minima era di 25 tra l'altro se al termine di questa partita al termine dei tempi regolamentari quindi dei 70 minuti Travenino Razio ci dovesse essere parità si andrà alla disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno più eventuali calci di rigore nelle finali precedenti disputatesi in giornata poco prima di questa sempre all'ostedio partita di Lombardi nella finale tra quinto e sesto posto la Salernitana ha avuto nettamente ragione della vis montonese battendola per otto reti a zero dunque la Salernitana che chiude al quinto posto il torneo terre di Irpinia nella finale per il terzo e quarto posto il Benevento all'ultimo secondo del secondo tempo regolamentare ha avuto la meglio della Juve Stabia quindi i Sanniti che salgono sul podio a primo posto la Juve Stabia campione in carica termina il torneo in quarta posizione e adesso vedremo chi tra Avellino e Lazio succederà in questo mini albodono osservate dinanzi a noi proprio a fianco alla panchina di Avellino i trofei esposti e che saranno consegnati al termine di questa finale a tutti i sei club partecipanti in un torneo appunto che si è snodato in tre giorni due gironi composti da tre squadre girone A e girone B che hanno partecipato a Lazio il Benevento l'Avellino la Salernitana e la Juve Stabia nonché alla Vis Montorese società coorganizzante del torneo la sfida è iniziata da tre minuti non è accaduto nulla di rilevante siamo sempre sullo 0-0 Manova l'Avellino con il numero 9 Ginaldi tiene palla Ginaldi prova a servire in profondità il numero 11 Simone Esposito ha raccolto palla Franco ma la sfera è uscita ci sarà rimessa laterale in favore della squadra campana categoria under 15 Avellino e Lazio negli rispettivi campionati non sono inseriti negli stessi gironi girone centro-meridionale per l'Avellino ossia girone C dove c'è invece la Roma l'altra squadra capitolina insieme al Napoli se vogliamo diciamo così rammentare i club più importanti oltre a Benevento un'altra società di Serie A la Lazio invece è nel girone B girone centro-settentrionale l'Avellino veleggia al secondo posto in campionato la Lazio invece in nova seguiamo questa azione manovrata degli Irpini con il Luminoso che prova a superare di slancio Franco l'intervento in scivolata del numero 2 laziale e rimessa ad attaccare in zona d'attacco per l'Avellino è lo stesso Luminoso a raccogliere il pallone e a rimetterlo su rettangolo di gioco il movimento ravvicinato del numero 11 Simone Esposito Rinaldi viene colto in controtempo raccoglie palla per lui Simone Esposito il cross di Luminoso l'uscita sicura di Di Fusco che attende qualche secondo per poter servire poi Manzo maglia numero 4 lancio lungo in avanti per Marinacci che subisce fallo tradito dall'impedo Daniele che alcio di punizione per la squadra capitolina Giordano Manzo migliorati nel cerchio di centrocampo prova l'apertura sulla sinistra per Ferliccia che mantiene buono il pallone ma lo consegna gli avversari sbaglia anche Giordano nell'allontanare la sfera Capasso per l'Avellino anche Capasso grande protagonista nel corso delle prime due gare disputate dalla squadra di Bevilacqua 4 a 0 nella gara di apertura del torneo contro la Salernitana e poi l'1 a 0 di Filato la Juve Stabia 6 punti che hanno consentito alla formazione irpina di affrontare in finale la Lazio di Tommaso Rocchi Lazio che è giunta in finale grazie alla mia differenza da Reti rispetto al Benevento Avellino inserita nel gironcino B Lazio inserita nel gironcino A D'Angelo la percussione lancia in profondità per Esposito la sfera preda di Difusco passaggio corto del portiere Laziale Manzo Temporeggia la Lazio Pullini magna numero 5 il capitano delle Aquile Franco migliorati essendo Lazio e Roma inserita in due gironi diversi per quanto riguarda la stagione regolare non è previsto almeno nella fase di regular season il derby tra le squadre romane il velo di Simone Esposito Avellino che alla ripresa del campionato affronterà nella prima giornata di ritorno il Benevento quarto in classifico ed in Guarapurato la serra su tutti i presupposti per assistere ad una bellissima partita si sfideranno la seconda in classifica l'Avelino appunto e il Benevento quarto la Lazio invece ripartirà dalla gara interna con il Verona Lazio che non è chiuso benissimo l'anno solare subendo nell'ultima giornata d'andata al giro di Boa la sconfitta interna contro l'Udinese intanto è stato segnalato un fuorigioco al numero 11 Simone Esposito calcio di punizione per la Lazio Pollini l'appoggio per Manzo regista retrato della formazione di Tommaso Rocchi che insieme al collega Bevilacqua segue all'impiedi questi primi sette minuti di partita 0 a 0 Travellino e Lazio nessuna occasione sia da una parte che dall'altra Giordano luminoso siamo nella canonica fase di studio ecco la verticalizzazione Simone Esposito la sua posizione di Visconti l'ultimo tocco è di Esposito rimessa per la Lazio la battuta di Franco il pressing di Visconti lotta Visconti va giù con l'avversario alla fine il fallo lo commette Mari punizione per la squadra campana no viene si è calcio di punizione è stato accordato di calcio di punizione luminoso aveva l'intenzione di battere la rimessa laterale D'Angelo nel cerchio di centrocampo mi scuso con i telespettatori per la voce un po' nasale Rossi all'indietro per Rinaldi Capasso doppietta per lui nel derby contro la Salernitana Manzo perdona doppietta di Pescicolo che però non è in campo ottimo gioco di gambe del numero 10 Mari che viene via benissimo all'avversario costringendolo al fallo ed inducendo l'arbitro ad estrarre il primo cartellino giallo di questa partita Caterino giallo per Visconti la finta di camp si è descreggiato benissimo Mari che ha messo fuori causa Visconti il quale l'ha messo giù in maniera plateale ci sta tutto il giallo primo provvedimento disciplinare a carico della venese Visconti ora calcio di punizione per la Lazio sono in due nei pressi del pallone confabulano Mari e De Santis uno sguardo rivolto alla panchina forse percepire qualche suggerimento del tecnico non batterà nessuno dei due perché sul pallone si è recato sono andiamerati ferliccia e con la battuta del calcio piazzato palla respinta dalla difesa velinese prova l'azione di contropiede l'avellino con luminoso che ha un po' di spazio occhio a movimento sulla sinistra di Simone Esposito preferisce il lato destra luminoso ma sbaglia palla irraggiungibile per Capasso la sfera è preda dei Laziali Giordano il lancio del numero 5 a cercare lo scatto dell'attaccante Castiglioni che deve vedersela con Giordano Castiglioni alla mena dell'impallo oio a Castiglioni la conclusione di sinistro al giro dell'attaccante Laziale la palla non esce allontana Daniele che fa carambolare il pallone sullo sticco dell'avversario ci sarà quindi rimessa dal fondo prima potenziale occasione del match targata Lazio Castiglioni ha avuto la meglio nel contrasto con il capitano velinese Giordano è riuscito a calciare in qualche modo ma è stato nettamente impreciso la sua traiettoria a giro di sinistro non ha trovato lo specchio della porta e la formazione è capitolina ha sciupato l'opportunità di sbloccare lo 0-0 occhio all'Avelino con D'Angelo l'intervento di De Santi sin chiusura Giordano non serve il portiere ma lancia a Daniele il fraseggio efficace degli avelinesi da Rinaldi a Daniele Capasso va giù Capasso lascia correre il direttore di gara la Lazio riparte con Manzo ancora Manzo pala intercettata per un attimo dalla velinese Manzo però serve il compagno Mari lancio per Castiglioni si rinnova il duello con Giordano ancora Castiglioni ha girato Giordano attenzione a Marinacci Murato Lazio ancora pericolosa un brutto cliente Castiglioni per Giordano rincorre il pallone il numero 5 Pollidi disturbato da Esposito l'ultimo tocco è suo non è d'accordo Esposito con l'arbitro messa laterale in favore della Lazio ecco Franco De Santis Lazio che nella gara di sodio in questo torneo attenzione al numero 7 migliorati calcia migliorati la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e poi si rifugia in corner capitano Giordano spaventato dall'arrivo di un avversario non ha voluto correre i rischi il capitano Biancoverde e ha spedito palla in calcio d'angolo tredicesimo minuto di gioco 0-0 Trevelino e Lazio ecco la battuta del corner traiettoria altissima che si pede direttamente sul fondo sull'altro versante nuova di fatto su questa sortita laziale batte Gammone dicevamo Lazio che nella gara d'esordio ha pareciuto 0-0 con il Benevento poi ha rifilato 14 reti alla Viz Montorese e grazie a tal larghissima vittoria ha avuto dalla sua la minor differenza reti che le ha consentito di qualificarsi per la finale e il primo e il secondo posto intanto va giù esposito toccato crudemente da un avversario l'arbitro aveva lasciato correre direttore di gara va a sincerarsi che le condizioni del numero 11 dell'Avellino che si rialza aiutato nella circostanza da un avversario ricordiamo l'arbitro il signor Alessandro Marino di Avellino rimessa laterale in favore della scuola di casa Parisi Giordano Daniele sulla destra ora Rossi Zagatesta D'Angelo fraseggio bianco verde non va a buon fine ma ma va ancora l'Avellino con Visconti luminoso con calma all'indietro benissimo per Parisi Rossi Daniele Giordano D'Angelo circunnaviga D'Angelo colto in controtempo Rossi prova a ripartire la Lazio ma sulla sfera perviene l'Avellinese Esposito che prova a disorientare gli avversari ancora Esposito agisce sul versante di sinistra parla indietro per Visconti un incommunito di questa gara sinora ora Parisi Capasso la palla è terminata però sul fondo aveva tentato il velo al fine di disorientare l'avversario ma la palla è schizzata in faro laterale può ripartire la Lazio con Pollini Ferliccia Manzo accelera Manzo intervento di Giordano provvidenziale perché Manzo stava per mandare in porta l'avversario ci prova l'Avellino Esposito il colpo di testa di Franco si incroge il pallone Esposito intervento in scivolata nell'esterno destro della Lazio rimessa laterale in zona d'attacco in favore dell'Avellino che proverà a costruirsi una prima chance ecco la battuta della rimessa laterale Daniele serve Rinaldi Rinaldi difende palla lo scambio dello stretto con Daniele si riparte da Parisi il quale allarga sulla sinistra per Luminoso lo scambio con D'Angelo ancora D'Angelo prova ad alluminarsi serve benissimo il numero 8 Rossi appoggio sulla destra per Capasso che si allarga leggermente ancora Capasso cross in aria basso sfera respinta dall'attenta difesa laziale c'è Giordano per Lavellino Gammone prova ad alzare il ritmo la formazione di Bevilacqua Luminoso vince il duello di testa con Migliorati si rinnova il duello tra Luminoso e Migliorati fallo del numero 7 della Lazio calcio di punizione per Lavellino da due minuti è trascorso il quarto d'ora di gioco sempre 0-0 tra Avellino e Lazio match valido per la finale del trofeo terre di Irpinia che si è tenuto allo stadio partenio Lombardi di Avellino nei giorni 3 4 e 5 gennaio attenzione dalla distanza che ci prova il numero 8 felici palla al lato sinistro temerario del centrocampista allenato da Tommaso Rocchi rimessa dal fondo che viene battuta da Gammone sceglie il passaggio corto a beneficio del suo capitano Giordano Rinaldi con autorità Lavellino viene fuori benissimo dalla situazione che si stava facendo complicata per via del pressing degli avversari Luminoso Visconti ancora Visconti Luminoso il rimpallo favorisce Migliorati poi Mari Manzo De Santis Pollini Migliorati sbaglia Migliorati l'appoggio per Franco ne approfitto Esposito vediamo cosa che esce a combinare solo contro due avversari ancora Esposito tiene palla attende rinforzi Esposito gioco di gambe a disorientare il marcatore riesce in qualche modo a servire D'Angelo ancora D'Angelo che deve lottare strattonato irregolarmente lascia correre il direttore di gara è una decisione che francamente non ci trova d'accordo poi c'è il fallo commesso da Rinaldi il calcio di punizione per la Lazio Terrato Mari sembrava falloso l'intervento su D'Angelo almeno dalla nostra postazione ricordiamo che stiamo stiamo fornendo questa partita dalla tribuna Terminio dello stadio Partenio Lombardi di Avellino lancio di Capitano Pollini colpo di testa all'indietro di Parisi evita il corner Luminoso perlomeno così dovrebbe essere vediamo no sarà calcio d'angolo evidentemente quando Luminoso ha calciato la palla aveva già varcato la riga di fondo calcio d'angolo per la Lazio batterà Mari dal versante di destra ecco la battuta dalla bandierina e colpo di testa da parte di Migliorati che dà l'illusione ottica del gol la palla è terminata sull'esterno della rete è stato bravissimo Migliorati a bruciare tutti sul tempo sul primo palo occasione gol per la Lazio difesa Avellino immobile il bravo il numero 7 raccogliere di testa il calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Mari sorpresa la difesa bianco verde il colpo di testa sul primo palo del numero 7 Migliorati e palla di un soffio a lato c'è stata per un attimo sugli spalti l'illusione ottica del gol ricordiamo che gli spettatori l'ingresso è gratuito hanno potuto assistere e assistono a questa finale hanno potuto assistere a questo torneo a questa finale dagli spalti di un settore della tribuna Monteregine appositamente aperto per l'occasione Visconti per l'Avellino c'è stata un attimo di confusione D'Angelo avanza D'Angelo accelera si avvicina l'area di rigore D'Angelo azione di rompente del numero 10 che va sul fondo ci sarà calcio d'angolo intervento in Teichel di Pollini calcio d'angolo ora anche per l'Avellino primo corner di questa partita per la formazione di Bevilacqua l'azione tampureggiante la percussione di D'Angelo che si è portato sul fondo poi c'è stato l'intervento risolutore di Pollini c'è calcio d'angolo per la formazione di casa 22esimo la battuta di Capasso palla in aria c'è stato un placcaggio calcio di punizione in favore dei laziali si lamenta il Capitan Giordano con l'arbitro non è d'accordo il numero 5 dell'Avellino sulla decisione di accordare il calcio di punizione alla Lazio in questa azione d'attacco avelinese lo scatto di Castiglioni intervento in scivolata di Giordano anche in questo caso il Capitano Biancoverde non è d'accordo con la decisione dell'abito che però rettifica e concede la rimessa laterale all'Avellino migliorati grande occasione per migliorati qualche minuto fa il suo colpo di testa sul calcio d'angolo battuto da Mari è terminato a lato di un soffio Rinaldi benissimo parla sulla sinistra per il Luminoso ha intercettato per un attimo Migliorati favorendo l'intervento del suo capitano Pollini adesso la Lazio Migliorati si addormenta ne approfitto il Luminoso per rubargli il pallone Rossi Capasso ancora Capasso Visconti che fa passare la palla da un avversante all'altro del campo ora Visconti tiene palla all'indietro per il Luminoso sbaglia il passaggio si invola Migliorati cioè fuorigioco di dentro segnalato a Castiglioni che non si è accorto della segnalazione dell'arbitro e del guardaline è scattata alla perfezione della trappola del fuorigioco messa in atto alla squadra dell'Avellino battuto il calcio di punizione troppa precipitazione tradisce i bianco-verdi la Lazio può rimpostare ancora con Castiglioni il pallone filtra ma viene atterrato l'attaccante della Lazio calcio di punizione per i bianco-celesti 25 minuti 10 minuti più eventuale recupero all'intervallo 7 del fischio dell'arbitro prendono posizione i duellanti con la battuta del calcio di punizione palla in aria l'impatto con la sfera da parte di Felici che non è riuscito ad imprimere non tanto precisione ma quanto forza la presa facile di Dammone forse nemmeno Felici si aspettava che la sfera gli pervenisse una di parte l'Avellino con Capasso lancia in profondità per esposito ha capito tutto un calciatore bianco-celeste e ha innescato gli avanti di Bevilacqua De Santis occhio alla Lazio Castiglioni palla per Mari ha un po' di spazio Mari si fa vedere che riceve su cadestra migliorati caliber cross migliorati palla a mezza altezza ed è bravo Daniele ad anticipare l'avversario che già pregustava era già ingolosito dall'impatto col pallone adesso D'Angelo prova a rispondere l'Avellino è libero sulla sinistra Esposito riceve in questo momento ecco Esposito avanza il numero 11 il fraseggio nello stretto degli Avellinesi ancora D'Angelo pallone filtra D'Angelo intervento di Franco attenzione a Capasso sulla destra Capasso in aria un dribbling palla in mezzo l'intervento di Pollini calcio d'angolo per l'Avellino applausi per la squadra di Bevilacqua altro corner per la formazione campana ventisettesimo del primo tempo sempre zero a zero la battuta di Capasso palla in aria saltano in molti la sera viene allontanata l'intervento di Luminoso Marinacci ha provato a venire via con un colpo di tacco è stato fermato ecco Luminoso la sfera però è preda dei Laziali Castiglioni Bevilacqua può essere sicuramente soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi al cospetto di una squadra di una società prestigiosa come la Lazio anche per misurarsi contro una compagine che non 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 fa parte dello stesso girone e anche per commisurare quelli che sono i valori anche in vista degli eventuali payoff che la squadra bianca o verde sarà chiamata a disputare e se l'avellino sta tendendo testa la Lazio seppurina amichevole e spia dell'ottimo lavoro che un staff di Bevilacqua sta facendo sinora Visconti Esposito rincorre il pallone attende al varco il numero due Franco ancora Esposito la sovrapposizione di Visconti la sfera però non perviene al numero quattro Pollini ha anticipato l'avversario ma anche pasticciato si è trascinato il pallone fuori dal sintetico regalando così la rimessa laterale all'avellino è pronto con le mani luminoso Visconti altra rimessa laterale in favore della formazione bianco-verde che resta in zona d'attacco la Lazio d'accanto suo rimane in trincea Rinaldi il palleggio di Rinaldi luminoso anticipato Rossi però si distende la Lazio il break dettato da Manzo l'intervento in chiusura di Daniele attenzione al movimento di Simone Esposito sul versato di destra la palla non filtra ha letto benissimo Pollini alle sue spalle c'era D'Angelo pronto a scattare ci riprova la Lazio palla per Castiglioni che va giù senza che nessuno commetta fallo Capasso tiene palla Capasso va giù calcio di punizione per l'avellino è scoccata la mezz'ora proprio in questo momento non si segna al momento tra Avellino e Lazio ricordiamo che se al termine dei tempi regolamentari ci sarà parità tra le due squadre si procederà alla disputa dei tempi supplementari aventi una durata di 20 minuti per esattezza 10 minuti a tempo se persisterà la parità si procederà all'assegnazione dei calci di si procederà alla disputa dei tiri dal dischetto migliorati viene fermato da Luminoso riparte l'avellino il velo di Esposito per Luminoso la corsa del numero 3 temporeggia rallenta Esposito va in suo aiuto Esposito a metà strada tra Luminoso e D'Angelo Esposito però tocca palla porta palla Esposito poi serve Luminoso il cross in aria aveva provato l'impatto con la testa D'Angelo neutralizzato dai difensori laziali calcio di punizione per la Lazio rischiato il giallo Daniele atterrato Castiglioni 32esimo tre minuti alla fine di questo primo tempo che vede Avelino e Lazio ferme sullo 0-0 posizione all'altezza della tre quarti in favore della formazione capitolina dovrebbe battere Manzo due Umi in barriera sistemati da Gammone parte Manzo palla in aria soluzione innocua quella del numero 4 della Lazio Davelino prova a ripartire Esposito non riesce a superare Franco che da terra col corpo arresta la corsa dell'avversario adesso Marinacci si lotta Marinacci ancora sempre Avelino Manzo per la Lazio pressato da Rinaldi si può giocare secondo il direttore di gara la Palone non filtra ha una seconda chance Rossi per servire Capasso che non è preciso tradito dalla precipitazione Rossi peccato c'era una buona opportunità la situazione era interessante per l'Avelino una ripartenza non sfruttata a dovere rimessa laterale ora in favore della Lazio Zoppica Marinacci è pronto con le mani Franco di Fusco per la Lazio il portiere salito a metà della metà campo di competenza il lancio per Marinacci la palla è uscita è pronto arrivò dal fondo Gammone poco meno di un centenario gli spettatori presenti sugli spalti della tribuna Montevergine intervento in scivolata di Visconti regolare ma c'è rimessa laterale in favore della Lazio deve stare attento Visconti essendo già ammonito un minuto al termine del primo tempo più eventuale recupero no non c'è più tempo secondo il direttore di gara Alessandro Marino appartenente alla sezione di Avellino il duplice fischio decreta l'avvento dell'intervallo il primo tempo va in archivio Avellino Lazio 0 a 0 una sola occasione quella del del Laziale migliorati il suo corpo di testa è terminato di poco a lato poi quasi nulla sia da una parte che dall'altra a risentirci per il commento del secondo tempo amici sportivi della visione ben ritrovati dallo stadio partenio Lombardi di Avellino sta per iniziare il secondo tempo di Avellino Lazio match valido per la finale del trofeo Terre di Spine edizione 2018 il primo tempo si è chiuso sullo 0 a 0 una sola occasione da rete significativa quella capitata al Laziale migliorati a metà del primo tempo il numero 7 ha colpito di testa sul calcio d'angolo dalla destra la palla è terminata di poco a lato per il resto nessuna occasione degna di nota i primi 35 minuti si sono snodati sui binari dell'equilibrio vedremo se lo 0 a 0 di partenza si schioderà nel corso di questo secondo tempo intanto seguiamo l'Avellino con Capasso c'è stata una soluzione nella Lazio ma seguiamo prima Capasso Capasso sulla destra il sinistro a giro la palla che termina in faro laterale non c'è stata nessuna deviazione da parte di un calciatore laziale quindi si ripartirà da una rimessa con le mani in favore della squadra allenata da Tommaso Rocchi c'è stato un cambio operato dai biancocelesti è entrato in campo il numero 13 e chi me vedremo stata facendo al posto di chi è subentrato il secondo tempo iniziato da un minuto e 15 secondi intervento di Luminoso sul tentativo di passaggio in profondità di Mari a beneficio di un compagno providenziale l'intervento che è il numero 3 palla per Capasso il cross la presa di Fusco portiere del Galazio palla per De Santis ancora De Santis Franco Castiglioni fermato da Visconti messa laterale in favore della squadra romana Castiglioni il fraseggio con il compagno palla per Manzo indietro Pollini la sfera per De Santis lancia di imbeccare Ferliccia che rincola la sfera manamente che la palla è fuoriuscita ci sarà rimessa dal fondo no c'è calcio di posizione per la posizione irregolare segnalata a Ferliccia batterà il capitano dell'Avellino Giordano Daniele l'Avellino non riparte c'è Rossi però ha intercettato per un attimo Manzo D'Angelo il tempo all'avversario ancora D'Angelo si invola intervento providenziale di Pollini ultimo ostacolo non superato da parte di D'Angelo avrebbe fatto fuori in velocità il capitano della Lazio sarebbe ritrovato a tu per tu con Di Fusco ora Visconti per l'Avellino avanza il calciatore di Castellammare di Stabbia parla ancora per Visconti non dovrebbero esserci stati cambi tra il fila dell'Avellino un solo cambio per la Lazio è entrato il numero 13 Chimè stiamo verificando il posto di chi sia subentrato ancora Lazio lo scatto di Ferliccia gli anticipo su tutti Giordano che però senza fronzoli senza troppi complimenti spedisce il pallone in foro laterale messa con le mani ad appannaggio dei Capitolini Manzo Pollini Sbaglia Migliorati ritorna sul pallone numero 7 che ha avuto una grande chance nel corso del primo tempo tutto solo sugli sviluppi di un corner colpito di testa sul primo palo sorprendendo tutti nello scatto la palla che è terminata davvero di un soffio al lato fornendo anche riduzione ottica del gol Capasso gesto strano dal punto di vista atletico fallo commesso da Castiglioni calcio di punizione per l'Avellino insomma di giù contuso Daniele proprio Daniele che riparte Capasso accede da Capasso la palla rimane buona rimane giocabile lo scatto di Capasso duello spalla spalla con Pollini che non lo molla Capasso e Caparbio ancora Capasso l'impallo che sorride a Felici Ferliccia Castiglioni ultimo tocco di Giordano rimessa laterale in favore della Lazio si sembra leggermente contuso Giordano e pronto Ferliccia alla probabile gittata in area di rigore ancora Ferliccia tiene buono il pallone Manzo Pollini potrebbe provarci dalla distanza lo fa il destro del capitano della Lazio conclusione telefonata Daniele per l'Avellino trova il pressing Ferliccia la Lazio in azione con il numero 4 Manzo palla alta il sinistro non preciso di Manzo che ha preso la mira ma non ha trovato lo specchio della porta potrebbe essere uscito il numero 2 Franco per la Lazio è l'unico numero che al momento non intravediamo De Santis chiede aiuto lo trova in Ferliccia Ferliccia la triangolazione con un compagno la conclusione smorzata dagli ispini poi Visconti all'indietro serve Gammone alleggerendo così all'indirizzo del proprio portiere c'è rimessa laterale per Lavellino Giordano Rinaldi si assume qualche rischio Visconti ad anticipare Marinacci con calma con autorità Parisi che perde palla però l'intervento di Giordano in chiusura bravo Giordano era solo contro due avversari Castiglioni e Marinacci intenti creazione di disturbo intenti a pressare Freddo Giordano a spazzare l'aria ma la Lazio rimane in zona d'attacco Lavellino la fa più fatica meno in questo frangente a ripartire le indicazioni dei due tecnici sta a gabbia a bevi l'acqua con i suoi ragazzi il tecnico velinese avvarcato i confini di Laga tecnica anticipato Visconti Mari colto in contotempo Castiglioni lancio subitaneo di Giordano Pollini all'indietro per di Fusco che ilude Capasso e con calma serve il compagno cambia gioco la Lazio a beneficio di De Santis è il nono del secondo tempo sempre 0-0 Ferliccia intervento in chiusura di Parisi che legge bene la traiettoria della sfera neutralizzando l'avversario ma la Lazio rimane in zona d'attacco ci sarà rimessa laterale per gli uomini di Tommaso Rocchi che da circa un paio d'anni ha appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera di allenatore lui che ha indossato tra l'altro le maglie di Empoli Lazio Inter Padova tanto perché ci danni alcune anche se la chiusura della carriera da calciatore è avvenuta in Ungheria con la formazione del Tata Bania almeno chiediamo così si pronunci con questione della carriera avvenuta non da tantissimo nel 2016 da calciatore per ciò che riguarda la sua esperienza con la maglia della Lazio ha siglato 105 reti in 293 presenze non poche De Santis ancora la Lazio con Felici provato il dribbling l'apertura di Mari sulla destra per Kimè che si lascia anticipare dall'avversario poi commette pure fallo il numero 13 Laziale poteva far meglio in quella circostanza troppo lento troppo prevedibile il suo movimento altra rimessa laterale in favore della Lazio ritmi blandi la partita stenta a decollare Pollini De Santis Marinacci la gira per Ferliccia che non previene sulla pallone rimessa è in favore dei Biancoverdi Giordano lo scambio con Rinaldi Giordano la ricaccia subito via De Santis per la Lazio Manzo ci prova per via centrale la formazione di Rocchi può ripartire l'Avellino D'Angelo attenzione in seguito da Migliorati D'Angelo appoggio per Esposito ho provato il dai e vai non è riuscito il colpo di tacco al numero 11 dell'Avellino e sono pure le intenzioni di Esposito le intenzioni che sono rimaste sono sulla carta Migliorati per la Lazio Alza Gatessa Temporigia Vemanzo ci si mette pure l'arbitro a disturbare le trame dei calciatori calcio di punizione comunque per la Lazio siamo all'altezza della trequarti e preside la sfera il numero 9 Castiglioni che ha avuto dalla sua qualche guizzo nel corso del primo tempo i suoi scatti hanno creato qualche gattacapo al suo marcatore diretto il capitano Giordano è riuscito in una circostanza anche a calciare lo schema il calcio di punizione devia in corner Gammone al minuto numero 13 sul piazzato di Manzo non si è fidato della presa l'estremo difensore bianco verde ha deviato in corner la conclusione comunque centrale del numero 4 di Rocchi calcio d'angolo per la formazione della Lazio primo intervento degno di nota di un portiere nel corso di questa partita la presa elastica di Gammone anche in questa circostanza appoggio corto per Rinaldi Daniele rimessa laterale bianco verde sape scoccare il quarto d'ora di gioco poco più di 20 minuti al termine di questa partita poi vedremo se ci sarà la necessità di ricorrere ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore adesso d'angelo attenzione a d'angelo movimento dribbling sgambettato irregolarmente da Migliorati il quale viene ammonito e Migliorati va a pareggiare anche il conto delle munizioni ma per parte nel primo tempo Visconti per l'avellino si è visto sventolare il giallo sotto il naso Migliorati gli va a far compagnia nell'elenco per aver atterrato in maniera estremamente fallosa il numero 10 d'angelo calcio di punizione per l'avellino è una situazione interessante ora per gli uomini di Bevilacqua la formazione di casa sinora non ha operato nessun cambio una sola sostituzione operata invece dalla Lazio all'inizio di questa ripresa l'ingresso di Chime al posto del numero 2 Franco seguiamo questo calcio di punizione per la formazione dell'avellino in precedenza sul calcio piazzato era stata la Lazio a cari presupposti per passare in vantaggio il calcio di punizione di Manzo ha costretto Gammone all'alzata della sfera oltre la traversa adesso è l'avellino a provarci la squadra campana nel corso di questa ripresa attacca dalla sinistra alla destra dei vostri atteleschermi ricordiamo questa partita sulle frequenze di Avellino TV canale 635 del digitale terrestre con la battuta del calcio di punizione ha calciato lo stesso D'Angelo la palla è indirizzata nel 7 ma la sfera non si è abbassata a sufficienza nuca di fatto dunque può ripartire da Lazio con migliorati ammonito in occasione del fallo commesso su D'Angelo da cui è scaturito il calcio di punizione appena abbattuto ora la Lazio ecco Manzo ancora Manzo prova ad evitare Visconti che non lo molla felici intervento di luminoso puntuale preciso ancora Visconti ecco Lavellino a cercare ora Capasso su di lui Ringhia Ferliccia rimessa laterale in favore della squadra campana diciassettesimo 0-0 Travellino e Lazio eventualità di tempi supplementari non è così remota soprattutto se i ritmi dovessero ancora mantenersi blandi le squadre non al di là di calci piazzati che poi tra l'altro sono rimasti episodi isolati stendono a creare i presupposti per colpire con 0-0 rispecchia davvero quanto visto in campo Daniele vedremo se ci sarà un'imprima turno nel corso di questi restanti minuti di partita Rinaldi Daniele ancora Rinaldi cambia gioco becca sulla sinistra Luminoso che erga nel controllo del pallone ne approfitta Chimè per involarsi sulla destra si allunga pure lui il pallone lo recupera Parisi per l'Avellino Luminoso Visconti con la punta serve Rossi invoca palla e riceve Capasso avanza Capasso per lo scatto in profondità di D'Angelo c'è anche fuori gioco al di là della segnalazione dell'assistente del direttore di gara D'Angelo comunque era in netto svantaggio rispetto al portiere avversario Manzo tra un po' vi rileggiamo le distinte allontane intanto luminoso gruppo di testa di Migliorati che dopo l'uscita di Franco ha arretrato la sua posizione sul versante di testa e lui affungere da esterno destro basso Rossi direttore di gara concede il vantaggio rimasto intanto giusto esposito Capasso dribbling un secondo in aria seguiamo Capasso avanza con il sinistro tiene comunque palla serve all'indietro Daniele prova il cross il numero due lo scatto di Capasso e la palla che termina sul fondo non è riuscito Capasso ad incunearsi in maniera efficace tra le maglie laziali è stato fermato poi l'azione è proseguita con una di fatto di Fusco allora Lavellino schiera Gammone tre pali numero uno numero due Daniele tre luminoso quattro Visconti cinque Giordano sei Paristi attenzione avanza la Lazio ecco Castiglioni maglia numero nove fermato Castiglioni lotta il centro davanti Laziale su di lui Rossi bravo esiste la formazione ospite poi appena ci saranno i presupposti proseguiremo nella lettura delle distinte sempre Lazio palla lì dietro per migliorati lancio desterno destro preda raccolta dagli Avelinesi che ora provano l'ennesima ripartenza da Rossi a Capasso pala di ritorno per Rossi ottima la chiusura di Pollini lo scambio con De Santis ancora Pollini Felici Manzo e allora diciamo dunque Lavellino Gammone tre pali numero uno due Daniele tre luminoso quattro Visconti cinque Giordano sei Parisi sette Capasso otto Rossi nove Rinaldi dieci D'Angelo undici Esposito in panchina Gianpietro Capuzzo Foggia Buonagura Ruotolo Palladino e Chiocchi allena Giuseppe Nevi l'acqua seguiamo gli sviluppi di questa sortita bianco celeste poi passeremo a leggervi anche la distinta degli under 15 romani la Lazio dunque risponde con Difusco il numero due era Franco sostituito al minuto numero uno della ripresa dal numero 13 Chimè ed è questa l'unica sostituzione in assoluto di questa partita perché Lavellino sinora non ne ha operate poi numero tre Ferliccia quattro Manzo cinque Polline sei De Santis sette migliorati otto Felici nove Castiglioni dieci Mari undici Marinacci in panchina benvenuti tra la Monti Vitale Ancillai e Campagna allena Thomas Rocchi Lavellino D'Angelo ora avanza D'Angelo parole in profondità per il numero undici esposito che viene atterrato quasi all'ingresso in area di vigore da De Santis si lamenta De Santis con il guardaline l'intervento è sembrato netto anzi solo richiamo verbale per il numero sei dicevamo protesta De Santis ma secondo me è scampato anche all'ammunizione a rischiato il numero sei della Lazio esposito era quasi entrato in area la fiammata bianco-verde al ventitresimo minuto della ripresa in esoccorso esposito la terna arbitrale è composta dai signori Alessandro Marino della sezione di Avellino guardalinee sono Pasquale Aquino di Avellino e Alessandro Silvestri di Avellino finale per il primo e secondo posto in mattinata si sono disputate le finale per il quinto e il sesto posto e per il terzo e il quarto posto al quinto posto si è classificata la Salernitana che ha battuto nella prima finalina la Viz Montoghese per 8 a 0 al terzo posto il Benevento che ha battuto nella finale per il terzo e il quarto posto i campioni uscenti i detentori del trofeo della Juve Stabia per una rete a 0 rete siglata proprio sul gong allo scadere del secondo tempo ed ora Avellino Lazio vedremo chi si aggiudicherà il trofeo Terre di Irpin edizione 2018 che è visto come palcoscenico lo studio partito Lombardi il calcio di pulsione di Capasso la presa in due tempi di Fusco direttamente in porta quella calciata dal numero 7 provo a ripartire da Lazio ventiquattresimo undici minuti al termine del secondo tempo undici minuti al termine dei tempi regolamentari poi se non dovesse esserci disequilibrio nel punteggio nel parziale si andrà ai tempi supplementari il cui tempo avrà una durata di 10 minuti quindi altri complessivi 20 minuti se al termine dei tempi supplementari persisterà ancora la parità ci sarà ancora equilibrio nel punteggio si ricorrerà ai tiri dal dischetto per assegnare il trofeo per vedere chi si aggiudicherà la seconda edizione del torneo terre di Irpinia attenzione a Chimè della Lazio palla di dietro per Mari Visconti ruba palla benissimo ora Esposito affrontato da Migliorati ultimo tocco del numero 7 no la rimessa è laziale c'è un secondo cambio per la Lazio fuori il numero 8 felici dentro se non andiamo errati se leggiamo che siamo a una certa distanza dovrebbe esserci Ancillai in campo con la maglia numero 16 si Ancillai seconda sostituzione operata da mister Tommaso Rocchi nessun cambio sinora per il tecnico velinese Giuseppe Bevilacqua Migliorati avanza Migliorati allontana Parisi per l'Avellino Capasso tiene palla Daniele è entrato Ancillai anticipa Rossi poi perde palla si sbarrisce Daniele Capasso agita l'avversario Rossi ora è circondato riesce a trovare il varco per servire il numero 10 d'Angelo che prova la conclusione impossibile dalla distanza arriva ad occhiato si portava l'avversario leggermente fuori dai pali ha provato il palonetto dalla distanza conclusione da dimenticare Pollini Manzo Ancillai si allunga il pallone Visconti gli lo porta via tiene palla Visconti passaggio del numero 4 al compagno Esposito Saccentra Esposito in cuore la sfera Visconti ma si ritrova al di là di tutti posizione di offside segnalata al giovane numero 4 di Castellammare di Stabia posizione per la Lazio intanto il direttore di gara si dirige verso il tecnico ovelinese Bevilacqua che palesa il suo disappunto all'indirizzo della decisione arbitrale il chiamo verbale per l'allenatore avelinese si può riprendere ventottesimo due minuti allo scoccare della mezz'ora De Santis Pollini migliorati palla ancora per migliorati il gioco è fermo la palla era uscita messa con le mani per luminoso sbaglia l'avellino Castiglioni si ferma Castiglioni prova il tiro ci ripensa allontana Parisi esposito di testa migliorati messa laterale in favore dell'avellino è pronto luminoso gara sostanzialmente corretta sbaglia Pollini uno dei rai errori favorendo l'avellino rimedia la Lazio adesso Mari palla per Castiglioni che viene messo giù calcio di punizione per la Lazio fallo commesso da Parisi avanza la squadra bianco celeste è scoccato la mezz'ora esalta al nostro cronometro 0 a 0 tra Avellino e Lazio 5 minuti e se persisterà la parità saranno tempi supplementari ecco la battuta del calcio di punizione c'è la segnalazione dell'assistente il gioco è fermo il gioco è fermo è tutto inutile l'arbitro ha dato un'occhiata al suo collaboratore che aveva la bandierina alzata già da qualche secondo nessuno dei duellanti se ne è accorto l'azione è proseguita tutto inutile Tegnamonti Marinacci dribla benissimo l'avversario ancora Marinacci messo giù calcio di punizione per la Lazio tra le proteste dei calciatori bianco-verdi trentunesimo la Lazio ora prova a vincere la partita prima del tipice fischio vuole dare l'accelerata decisiva alla formazione di Rocchi l'avversario costretto sulla difensiva altro calcio di punizione per la squadra capitolina che si era già resa pericolosa con Manzo con quest'ora della distanza centrale ma che comunque aveva costretto Gammone alla deviazione oltre la traversa ci riprova la squadra ospite a Lazio di patron Claudio Lotito le sue due squadre presenti a questo torneo Lazio e Salernitana secondo gli sviluppi di questo calcio piazzato Anci line è entrato la presa plastica di Gammone applausi per il portiere bianco verde luminoso Salernitana che è giunta quinta in questo torneo e che si è giudicata quest'oggi la finale per il quinto e sesto posto Rinaldi lotta Rinaldi alla meglio l'avversario migliorati Pollini De Santis De Santis spedisce il pallone in favolaterale perché atterra un compagno si rialza il Laziale rimasto contuso nel contrasto allarme pare rientrato il calciatore infortunato sembra in grado di poter continuare dovrebbe trattarsi di Kimè Avellino ovviamente restituirà palla ai Laziali Avellino Lazio che a livello di prime squadre è stata anche una partita di Serie A ricorderete Lazio di Giordano e Manfredonia a metà degli anni Ottanta con Giorgio Chinaia presidente ancora la formazione capitolina calcio d'angolo per il team allenato da Tommaso Rocchi Saran Cillai ad andare dalla bandierina sul versante di destra un minuto alla fine del tempo regolamentare la palla in aria attenzione a Castiglioni che viene murato Capasso di tacco benissimo per l'inserimento di d'angelo che a nostro avviso temporeggia un po' troppo anzi esposito ora Capasso lo rincorre Pollini Capasso è in aria intervento provvidenziale di un difensore della Lazio era appostato Rossi sarebbe stato un gioco da ragazzi spingere il pallone in fondo al sacco si continua a giocare il pubblico protesta il guizzo di Marinacci che viene fermato Visconti Rossi Capasso i metodi in campo a caccia del guizzo decisivo a questo punto il tempo è scaduto siamo entrati nella fase di recupero da 20 secondi sempre 0 a 0 si prospettano i tempi supplementari Manzo Migliorati Palla ancora per Migliorati Insiste la Lazio gli ultimi assalti di partita attenzione a Marinacci Palla in profondità per Ancilai che mette dentro la presa di Gammone ad anticipare tutti portiere bianco verde dominus dell'area piccola niente di fatto non sono bastati i 70 minuti di gioco per decretare la vincitrice del secondo trofeo Tegre di Irpinia veniva Lazio terminano i tempi regolamentari sullo 0 a 0 si va ai tempi supplementari 10 minuti a tempo qualche istante di pausa poi saremo di nuovo insieme per il commento dei tempi supplementari amici sportivi alla visione ancora in magica lo stadio partenio Lombardi appena iniziato il primo tempo supplementare della finale per il primo e il secondo posto Travellino e Lazio secondo trofeo Terre di Spine edizione 2018 i tempi regolamentari si sono chiusi solo 0 a 0 ora si ricorre ai tempi supplementari per stabilire eventualmente chi Travellino e Lazio succederà nel mini albodoro di questa manifestazione giovanile giunta alla seconda edizione di chi nell'albodoro succederà alla Juve Stabia campione uscente vincitrice nell'edizione dello scorso anno i tempi supplementari vanno una durata di 10 minuti ciascuno se anche al termine dei tempi supplementari persisterà la parità si ricorrerà ai tiri dal dischetto attenzione all'errore dell'Avellino ne approfitta Marinacci non sappiamo se nel corso della pausa tra i tempi regolamentari e i tempi supplementari ci siano stati dei cambi sembra di no l'Avellino continua nel suo schieramento iniziale la Lazio ha operato due sostituzioni nel corso del secondo tempo uno di inizio ripresa con l'ingresso di Chimea al posto di Franco poi a metà ripresa il numero 16 Ancillai è subentrato a Felici non ha cambiato ancora nulla invece nel suo scacchiere mister bevi l'acqua nel corso di questo primo tempo supplementare che ricordiamolo farà una durata in dieci minuti l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi manovro a Galazio sfida che ovviamente vede aumentare l'adrenalina anche se in verità sino ad ora i ritmi in campo sono stati piuttosto sommessi non altissimi le squadre hanno battato soprattutto a difendersi a non scoprirsi una sola grande occasione quella capitata a numero 7 laziali migliorati nel corso del primo tempo il suo colpo di testa sui sviluppi di un corner è terminato di pochissimo al lato gioco fermo per l'atterramento di un calciatore laziale e intanto noi ne approfittiamo per rileggervi le distinte partiamo dall'Avellino dunque che ricordiamolo sinora non ha operato cambi la squadra irpina schiera gamone tra i pali numero 1 numero 2 daniele tre luminoso 4 visconti 5 giordano 6 parisi 7 capasso 8 rossi 9 rinaldi 10 d'angelo 11 esposito in panchina gian pietro capozzo foggia buonagula ruotolo palladino e chiocchi allenatore signor bevi l'acqua la lazio dell'ex attaccante biancoceleste tommaso rocchi schiera di fusco tra i pali numero 1 numero 2 franco sostituito poi da achimè ad inizio ripresa ad inizio secondo tempo regolamentare numero 3 ferliccia 4 manzo 5 pollini 6 dei santis 7 migliorati il numero 8 era felici sostituito a metà ripresa da ancillai poi numero 9 castiglioni 10 mari 11 marinacci in panchina benvenuti chimè talamonti vitale campagna intanto non ce la fa il calciatore infortunato terzo cambio stavolta forzato operato dalla Lazio è costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco ci sembra il numero 11 marinacci a suo posto numero 17 campagna quarto minuto del primo tempo supplementare 0 a 0 tra Avellino e Lazio mi parte la formazione ospite con diciamo ospite perché si gioca ad Avellino ma teoricamente è una gara che si disputa a campo neutro viene fermato nella corsa Daniele calcio di punizione per l'Avellino va a sincerarsi nelle sue condizioni l'avversario alza subito aggressiva Manzo Manzo per i domani Manzo che scambia con un compagno allarga sulla destra per Chimè fronteggiato da Luminoso parla lì indietro per il numero quattro Manzo è in posizione regolare il nuovo entrato Campagna Campagna a palo esterno occasionissima per la Lazio che Chance per Campagna avrebbe potuto brindare con un gol il suo ingresso in campo ha fallito camorosamente il bersaglio numero 17 che era Lazio Gammone immobile la palla ha francobollato il palo esterno della porta difesa da Gammone Lazio vicinissimo a vantaggio al quinto minuto del primo tempo supplementare di Fusco Pollini Migliorati aggira benissimo Esposito ancora la Lazio migliorati fallo no anzi no si gioca invece no il direttore di gara ha esitato un attimo Rossi si stava involando gioco interrotto calcio di punizione per la Lazio fallo su Manzo ed eccolo anzi eccoli i primi due cambi per la formazione bianco-verde e pronto ci sembra il numero 18 Palladino via Rinaldi e Parisi per Lavellino il saluto di Capasso al compagno due cambi dunque in un sol botto per Lavellino lasciano Parisi e Rinaldi ha operato invece tre sostituzioni il tecnico della Lazio Tommaso Rocchi dentro per Lavellino anche Gian Pietro Maglia numero 13 si riprende ecco Chimè ancora Chimè fa fuori luminoso palla sulla destra per Campagna vicinissimo al gol dell'1-0 il suo destro ha colpito il palo da posizione ravvicinata Lavellino ha tremato ancora Lazio ancora Chimè sempre su quel versante conclusione a giro la presa di Gammone sicura altra potenziale chance per la squadra bianco-celeste Gammone attende che i suoi compagni risalgono alla corrente poi però serve corto il numero 18 Palladino è entrato in campo al posto di Parisi lancio in avanti gruppo di testa del numero 4 Manzo si notte in un fazzoletto di campo rincolo che il pallone rossi lascia scorrere De Santis accontentandosi della rimessa laterale parla all'indietro per il capitano della Lazio Pollini con calma serve migliorati ancora Pollini in posizione d'attesa l'Avellino sempre 0-0 una gara contrassegnata dall'equilibrio Avellino Lazio categorie under 15 che attendono la ripresa degli impegni ufficiali dopo la pausa invernare Avellino impegnato nel campionato nazionale Gigone C under 15 Avellino che disputerà in casa la prima partita del 2018 nel derby contro il Benevento tensione ancora Campagna Chime ha l'opportunità di sbloccare lo fa la Lazio è in vantaggio con Chime al nono minuto del primo tempo supplementare ha colpito stavolta la formazione di Rocchi combinazione ravvicinata tra due calciatori che sono subentrati Campagna e Chime la freddezza del numero 13 non ha lasciato scampo a Gammone per il vantaggio della Lazio dunque Chime sblocca lo 0 a 0 Avellino è sotto altro cambio operato da Bevilacqua sostituzione che avviene subito dopo la rete Laziale Chime dunque ha spezzato il lungo equilibrio di questa partita lo 0 a 0 è resistito sino al minuto numero 9 del primo tempo supplementare e la rete di Chime al momento allontana i tiri dal dischetto vediamo quale sarà l'entità della reazione bianco-verde a Lazio aveva già sfiorato la rete in occasione di questo primo tempo supplementare con Campagna il quale la posizione ravvicinata ha colpito la parte esterna del palo sinistro della porta difesa da Gammone il tempo supplementare è scaduto il decimo minuto è scoccato da 30 secondi al nostro cronometro dovrebbe esserci l'immediata inversione delle metà campo la Lazio è in vantaggio decide Chime che viene lanciato dal capitano Pollini corner per la Lazio lui non so ha fatto quel che ha potuto nel contrasto con l'autore del gol che sta regalando il trofeo alla formazione di Tommaso Rocchi dalla bandierina è pronto Mari non c'è tempo per battere il corner duplice fischio termina qui il primo tempo supplementare si va al mini di poso con la Lazio in vantaggio per una rete a zero grazie al gol del numero 13 Chime caduto al minuto numero 9 di questo primo tempo che va in archivio a risentirci per il commento del secondo tempo amici di sportive della visione sapere iniziare il secondo tempo supplementare della sfida che vede di fronte l'Avellino e la Lazio nella finale per il primo e il secondo posto della seconda edizione del trofeo Terre di Irpinia i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0 a 0 si è dovuto di correre alla disputa dei tempi supplementari il primo tempo supplementare ha visto la Lazio in vantaggio per una rete a 0 con il gol di Chime altri 10 minuti di tempi supplementari e poi vedremo se la formazione di Rocchi riuscirà da Zaga al cielo del trofeo oppure se l'Avellino riuscirà se non altro a prevenire al pareggio e a trascinare gli avversari ai tiri dal dischetto altri 10 minuti tutti da seguire la Lazio dunque è in vantaggio con Chime il numero 13 ha siglato la rete che sta regalando la coppa alla Lazio al minuto numero 9 del primo tempo nel corso di questa ripresa l'Avellino attacca dalla sinistra a destra dei vostri teleschermi ecco Luminoso alza la testa Luminoso ancora Visconti insiste Visconti è libero Capasso riceve palla in questo momento Capasso entra in aria lo scatole numero 7 il tiro di destro sbagliato palla sull'esterno della rete Avellino sciupa questa opportunità il secondo tempo iniziato da un minuto e 30 secondi altro cambio fuori esposito che abbandona il rettangolo di gioco tra l'auticante dentro il numero 17 il ruotolo anche Buonagura è entrato in campo per l'Avellino maglia numero 16 è pronto alla rimessa dal fondo il portiere laziale di Fusco prende qualche secondo di Fusco poi si accinge l'invio di sinistro Ancillai controlla Lazio ha in dote anche il palo colpito sempre nel corso del primo tempo supplementare da campagna quando si era ancora sullo 0-0 preludio poi al goal di Kimè che sta decidendo questa sfida infinita tra Avellino e Lazio e la finale per il primo e il secondo posto è l'unica tra le altre due che si sono disputate a prevedere anche la disputa dei tempi supplementari non è accaduto nelle finali tra Viz Montorese e Salernitane tra Benevento e Juve Stabia rispettivamente per il quinto e il sesto posto e il terzo e il quarto posto perché non c'è stata parità ci fosse stata parità in entrambe o in una delle due partite si sarebbe andata direttamente alla battuta dei calci di rigore ci sono due palloni in campo Avellino deve accelerare i tempi se vuole recuperare dallo svantaggio e giocarsela ai calci di rigore Lazio conduce per una rete a zero tre minuti sette minuti più eventuali recupero alla fine anche dei tempi supplementari calcio di punizione che fanno commesso da un calciatore bianco verde spunta anche il sole allo stadio Partegno Lombardi c'è un altro avvicendamento tra le fila di casa ora è davvero walzer dei cambi per Lavellino dopo che per gran parte di questa sfida mister bevi l'acqua ha mantenuto intatto lo schieramento iniziale dentro anche il numero 19 vecchi occhi tenta tutto per tutto il tecnico bianco verde anche se non c'è molto tempo intanto Castiglioni dalla destra la Lazio si mantiene nella metà campo avversario con un traslato da Visconti Castiglioni va giù messo giù in maniera plateale calcio di punizione per la Lazio la caparbietà dell'attaccante bianco celeste ha fruttato un calcio di punizione siamo sul versante di destra una sorta di corner corto la Lazio vuole chiudere definitivamente i conti andando a caccia dal gol del 2 a 0 vuole tagliare le gambe definitivamente all'avversario 4 minuti al nostro cronometro siamo a metà secondo tempo supplementare la Lazio temporeggia ci sarà calcio d'angolo con tutta calma va a battere il numero 10 Mari la formazione capitolina non ha alcun interesse ad accelerare i tempi ricordiamo che al termine di questa partita ci saranno le premiazioni per tutte e sei le società che hanno dato vita a questa tre giorni allo stadio Partegno Lombardi davvero un successo di pubblico ha quasi rischiato l'autogol l'Avellino la palla è terminata di poco a lato ha tremato Gammone il lancio di Daniele palla intercettata da Manzi ancora Lazio Castiglioni fermato Ancillai tiene palla Ancillai retropassaggio a beneficio di De Santis testa e la ragnatega da Lazio Pollini vuole stanare l'avversario il team bianco-celeste perché a Castiglioni scivola Castiglioni ancora Lazio va giù un altro calciatore bianco-celeste dice di dover correre ai calciatori l'arbitro allontana migliorati adesso affiora anche compensibilmente la stanchezza tra i contendenti anche se in verità ci sono tanti neoentrati in campo Daniele Gianpietro parla per buona gura servito da Visconti Mari a mettere Odega nel traffico si riparte da Di Fusco Pollini Castiglioni migliorati ancora Pollini alla fine si decide di lanciare lungo ma è in posizione irregolare il numero 17 Campagna 3 cambi 2 per la Lazio 1 per l'Avellino Campagna che sullo 0-0 ha colpito il palo fuori per la Lazio Mari e Mari e Ferliccia sa per entrare per l'Avellino numero 14 Capuzzo Vitale per i Capitolini il direttore di gara si reca da Ferliccia intimandogli di accelerare le operazioni di uscita dal sintetico dal rettangolo di gioco crediamo che il match è arbitrato dal signor Alessandro Marino appartenente alla sezione di Avellino coadiuato da Pasquale Aquino di Avellino e da Alessandro Silvestri di Avellino punizione per la formazione campana la battuta di Giordano il colpo di tacco tentato da Capasso ancora Capasso che viene però fermato da Pollini che è stato bravo il numero 7 a lasciare sul posto un avversario poi non ha superato l'ultimo baluardo Capitano Pollini prova a ripartire da Lazio Castiglioni servito da migliorati Gian Pietro fallo commesso dai calciatori laziali calcio di punizione per i biancoverdi nono un minuto al termine del secondo tempo supplementare Avellino 0 Lazio 1 decide il gol di Chime al nono del primo tempo supplementare in questo momento ad alzare la coppa del primo posto è la Lazio che succede così nel mini Albodoro alla Juve Stabia la formazione di Rocchi è vicina ad aggiudicarsi la seconda edizione del trofeo Terre di Spina edizione 2018 manifestazione riservata alla categoria Under 15 Manzo è solo sulla sinistra il numero 15 Vitale anche gli subentrato Vitale è fortunato poi va giù lascia correre per il vantaggio il direttore di gara viene fermato però Campagna ha commesso fallo lui su Giordano punizione per l'Avellino potrebbe essere l'ultima opportunità per la squadra bianco-verde di acciuffare i tiri dal dischetto e di giocarsela lì batte Giordano Capuzzo fa giù Capasso lascia correre il direttore di gara siamo già nell'extra time quasi un minuto oltre il decimo i tempi supplementari hanno una durata di dieci minuti ciascuno secondo quanto previsto dal regolamento della manifestazione inserimento intanto di Talamonti ancora Lazio la nuova sulla destra la formazione di Tommaso Rocchi Castiglioni tiene palla ancora Castiglioni Ancillai per lo scatto di un compagno attenzione defilato sulla sinistra sbaglia tutto Vitale Lazio pericolosa nessun calciatore bianconceleste è terminato in fuorigioco insiste la squadra di Rocchi Ancillai la grande risposta di Gammone Lavellino ha ormai tirato Iremi in barca Lazio gioca sul velluto perché riesce a mantenere lontani gli avversari dalla propria area di rigore siamo già del resto nel secondo minuto di recupero ed eccolo il tipice fischio a Lazio batte 1 a 0 Lavellino grazie al gol di Chimè al nono minuto del primo tempo supplementare e vince la seconda edizione del trofeo terre di Irpinia anno 2018 manifestazione giovanile riservata agli under 15 cui hanno partecipato Lavellino che è giunta seconda la Lazio vincitrice dunque del torneo il Benevento la Juve Stabbia la Salernitana e la Vis Montorese davvero un successo complimenti agli organizzatori dallo stadio sportivo partene a Lombardi e tutto prima sconese al commento Palmiero Napoli alle telecamere a risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avelino TV Mimbo la Vis Montorese la togliamo prima la 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 Grazie. Grazie, grazie a tutti. Un applauso. Siamo già troppo fatti, ci cambiamo il suo modo. Grazie, grazie. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. C'è qualcuno della Givova per caso? No. Va bene, allora abbiamo una targa anche per la Givova. Passiamo ai protagonisti che siete stati voi. Ragazzi, allora, quinto posto. Quinto posto. Salernità e Calda. Salernità e Calda. Vi dà un po' la medaglia per le ragazze? Sì, sì. Ci cazzo di Fede. Quanti facciamo una foto. A posto? Grazie per la vostra presenza. Grazie a voi. 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 Grazie. 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 Per il portiere. Per tutte le mazzate che è butto su agli uomini. Per la grinta che ha cercato di dimostrare il portiere della Montorese Calcio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.